Andrea Oblina, insomma, magari tra qualche anno si andrà a vedere gli almanacchi, le emozioni di una stagione intera, però sono questi gol, questi momenti che nella carriera di un giocatore forse restano con maggior felicità. Infatti sono veramente contento di sto gol, perché forse è il più bello della mia vita, perché ci ha dato l'opportunità di andare a giocare in prima categoria. Questo gol lo dedico alla mia famiglia, al mio nonno che a fine partita l'ho visto piangere, con questo gruppo fantastico, con il mister compreso che ha la mia età, però io con lui mi sono sempre trovato bene, abbiamo giocato anche insieme e sono veramente felice che sia andata così perché ce lo meritiamo, perché è stato un girone d'andata difficilissimo, perché abbiamo avuto molte difficoltà, ma alla fine siamo arrivati fino a questo punto e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo visto molta unità di intenti, soprattutto nel corso della partita, una squadra molto ordinata, molto compatta. Dal punto di vista tuo personale forse qualche incursione offensiva in meno, però avete avuto veramente grande equilibrio per il corso di tutti i 90 minuti. Sì, la Vadese nel secondo tempo ci ha messi sotto, perché alla fine quella è stata la partita, però siamo stati bravi a tenere il risultato, a crederci fino alla fine e sono veramente contento. Non c'è niente da dire, il risultato parla chiaro, abbiamo vinto e siamo in prima. Senta forse la ciliegina sulla torta per te, visto che ti sei ritagliato questo nuovo ruolo nel corso del tempo, tanti gol che sono arrivati. L'avete preparata questa punizione nel corso della settimana, uscita un po' così come un coniglio dal cilindro? Guarda, sono sincero, di solito al venerdì Fiore non si ferma mai a tirare, non si ferma mai, quindi provo sempre da solo, quindi ringrazio Fiore che non c'è mai stato quando battevo le punizioni e i rigori, quindi grazie Fiore, però sono contento, questi colpi bene o male tutto l'anno li ho avuti un po', sono veramente contento e felice.